Una domanda a testa. Buonasera, Ministro Filippo Consiglio del Corrierello Sport. C'è stato un momento, si è visto un suo labiale nel finale di partita, che ha detto ciao, me ne vado, non so, rivolto a qualcuno, all'arbitro, al quarto uomo, c'era un po' di elettricità, non so, aveva qualcosa da recriminare? Grazie. No, non ho assolutamente da recriminare, credo che stasera Fabri abbia abitato una partita perfetta. E' stato molto bravo in tutte le situazioni, noi bisogna rimanere sereni perché abbiamo mercoledì l'Inter e poi abbiamo il campionato che comunque dobbiamo riprendere a vincere. Diciamo che momentaneamente abbiamo ancora tre punti di vantaggio sulla quarta e mancano sette partite e quindi bisogna essere bravi. Dall'altra parte abbiamo fatto una buona partita contro il Napoli forte che ha meritato ampiamente lo scudetto. e su questo dobbiamo lavorare per il prossimo anno per ritornare a essere subito competitivi. Salve mister, Giorgio Musso di Crociamercato.it le chiedo se questa prestazione può bastare contro l'Inter e poi cosa ne pensa della squalifica torta a Lukaku? Una domanda sola, una. Per quanto riguarda, con l'Inter sarà una partita completamente diversa alla semifinale Coppa, bisogna essere bravi all'altezza e riprendere le energie. Per quanto riguarda la squalifica di Lukaku, non sono io che decido e soprattutto non sono il mio pensiero, conta zero e quindi noi accettiamo, noi dobbiamo accettarci alle organi di competenza che se hanno ritenuto giusto togliere la squalifica da Lukaku, noi dobbiamo accettarla in totale serenità. Noi bisogna essere concentrati su quello che dobbiamo fare sul campo e non farci tirare fuori da queste situazioni. Perché già in Ergina abbiamo speso tanto in questi quattro mesi per stare aggrappati al campionato, per arrivare in semifinale di Europa League, per arrivare in semifinale Coppa Italia e quindi credo che le energie che abbiamo ad ora fino alla fine ci devono servire per vincere le partite sul campo. Buonasera, mister Luca Cavallorti in Voredio. Le chiedo un giudizio sulla prestazione di Sule che cosa gli aveva richiesto prima della partita in particolare. Grazie. Guardate, stasera sono molto contento perché credo che Sule abbia fatto una bella partita, mi ha detto lo stesso, Rugani e Gatti hanno fatto una partita straordinaria di dietro contro Zimane, a metà campo tutta la squadra. Poi potevamo sfruttare meglio il primo tempo delle situazioni quando siamo ripartiti, subito all'inizio ce n'è stata una buona e il cross di Rabiot andava chiuso dalla parte opposta con Kostic ma queste fanno parte del miglioramento della squadra nell'andà a chiudere l'azione. La prestazione è stata buona e da una parte sono contento, dall'altra sono dispiaciuto perché abbiamo preso un pochino un gol da Polli, diciamo un pochino di inesperienza, lì siamo stati pochi esperti. Ma questo fa parte del processo di crescita di ragazzi che non sono abituati a giocare questi tipi di partite. Buonasera, Ministro Marco Venditti. Signora mia, Calcio News ha detto proprio adesso gol da Polli oppure da Bischeri, come si dice in Toscana. Però ecco, la partita di questa sera è una testimonianza sul fatto che la Juventus non è assolutamente inferiore a nessuno e se questa prestazione di stasera, inclusi anche i giovani molto convincenti, danno proprio quell'entusiasmo in più per poter far molto bene anche ovviamente in Europa League. Grazie. Sono molto fiduciosi quello che stiamo facendo, ripeto, non era facile perché comunque stare quattro mesi in quelle condizioni e trovare l'energia, ma soprattutto la concentrazione per fare risultati. Dispiace perché le ultime cinque partite abbiamo perso quattro in campionato e soprattutto stasera abbiamo perso una partita che dopo il gol annullato a Di Maria bisognava finire la 0-0, invece in quel frangente lì siamo stati un pochino leggeri, ma ripeto, dall'altra parte ci sono tante cose positive di ragazzi giovani con poca esperienza a giocare queste partite che hanno fatto veramente una bella partita. Ciao Antonio Paolino, Radio Bianconera. Comprensibilissima la volontà tua, della società, della squadra, penso, in una stagione particolare di non sprecare energie per commentare episodi del campo. Però se l'arbitro è bravo ad arbitrare, è bravo anche a farti arrabbiare ogni tanto nel leggere in modo diverso dalla tua lettura e di quella della squadra che abbiamo visto in campo. Grazie. No, e noi, ripeto, le decisioni non le abbiamo mai, io credo che in, non so, forse ormai sono 20 anni che faccio questo mestiere, abbiamo sempre accettato, ho sempre accettato tutto perché poi uno, prima cosa non possiamo cambiarle, seconda cosa, se l'arbitro viene in quel modo vuol dire che ha ritenuto è giusto fare così, quindi non bisogna accettare e non dispende energie. Poi è normale che nel momento della partita c'è un po' di nervosismo perché comunque veniamo da una stagione molto impegnativa, però non bisogna essere molto calmi e sereni perché alla forza di una squadra è di una società, rimanere sereni nei momenti in cui, diciamo, degli episodi ci vanno contro e soprattutto non è facile in questo momento ma bisogna assolutamente farlo perché mercoledì sarà un'altra partita ad alta tensione, sportiva, qualcuno interpreta male le cose, contro la scuola forte e bisogna prepararsi nel migliore dei modi. Buonasera mister, Domenico Marchese di Repubblica, nell'azione del gol, l'azione del gol è nata da una situazione in cui Quadrado c'è stato un contatto in area, dal momento del contatto a quello del gol sono passati 44 secondi e Quadrado non è tornato a coprire, l'ha fatta arrabbiare questa cosa oppure poteva la squadra reagire in maniera diversa? Grazie. Eravamo posizionati serenamente e tranquillamente dalla parte opposta alla palla, diciamo, siamo stati un po' troppo leggeri nel non seguire l'uomo che poi ha fatto gol. Ultime due domande, grazie. Buonasera, Max Vigiani, RTL1025. Le chiedo, si aspettava questo Napoli o l'uscita dalla Champions le faceva presagire un Napoli diverso? Il Napoli sta inseguendo, ormai ha vinto, ma l'aveva già vinto anche prima la partita stasera, lo Scudetto. È una scuola forte, in salute, mentalmente, quindi noi dovevamo fare una partita del genere e l'abbiamo fatta, quindi ai ragazzi non da rimproverare assolutamente niente. Salve mister Stiletti, pianeta Napoli. Di recente De Laurentiis ha affermato di aver avuto dei contatti con lei prima di ingaggiare Spalletti. Le chiedo quindi se allenare il Napoli era un suo obiettivo, grazie. Quello che ha detto il Presidente, non so neanche cosa ha detto di preciso, quindi me l'aveva cercato e poi dopo io ho fatto delle scelte completamente diverse. Grazie a tutti e buonanotte.